Allora, che faccia da cazzo che c'hai? Se Pierino ha quattro mele e ne mangia nove, quanto è lungo l'equatore? Professore ma che minchia di problema! C'è un grossissimo problema! Come quando in piazza Duomo hanno messo le palle. Comunque, dato che sei intelligente come una pietra, boh ne facciamo un altro. Eh va bene, facciamo. Se Pierino ha novantaquattro cioccolatini e ne mangia novanta, che cos'ha? Eh quattro cioccolatini! No, la pancia! E' pure il cagotto! Eh professore, mi dia una mano! Yeah!